SPS Italia, siamo a Parma, sono allo stand di Mobotix. Mobotix è un'azienda tedesca che produce telecamere. Alla mia sinistra è il signor Vasto, responsabile commerciale dell'azienda. Signor Vasto, buongiorno. Buongiorno a lei. Cosa produce esattamente Mobotix? Mobotix è un'azienda leader di telecamere di videosorveglianza ad alta risoluzione. Ci stiamo focalizzando sull'alta risoluzione a 6 megapixel e su tutta la tecnologia termica. Quindi questa fiera per noi è stata molto importante per portare il nostro contributo anche in tutto ciò che riguarda l'automazione. Le vostre telecamere dove si possono applicare? Dove non si possono applicare forse? Non lo so, nel senso possono essere applicate ovunque. Siamo partiti con un semplice controllo perimetrale o con un controllo cittadino, quello che è la storia di Mobotix, premesso che è un'azienda relativamente giovane, siamo sul mercato da circa 15 anni. Siamo partiti con un paio di telecamere, siamo arrivati a coprire qualsiasi tipo di mercato verticale. Non per niente ci stiamo molto concentrando proprio sui settori verticali con degli eventi focalizzati. Quindi come Mobotix controlliamo qualsiasi cosa? Assolutamente sì. Grazie e buon lavoro. Grazie anche a voi.